Il treno, regionale veloce, 38, 11, di Trenitalia, delle ore, 20, e, 4, proveniente da, Catania Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, non effettua fermate intermedie. Il treno, regionale, 39, 12, di Trenitalia, delle ore, 21, e, 52, proveniente da, Agrigento Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Bagheria. Il treno, regionale, 79, 87, di Trenitalia, delle ore, 21, e, 34, proveniente da, Sant'Agata Militello, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Bagheria. Il treno, regionale, 26, 5, 3, 4, di Trenitalia, delle ore, 22, e, 23, proveniente da, Palermo Centrale, e in arrivo al binario, 4. Il treno, intercity, 7, 2, re, di Trenitalia, delle ore, 18, e, renta, proveniente da, Roma Termini, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, non effettua fermate intermedie. Il treno, intercity, 7, 2, 9, di Trenitalia, delle ore, 22, e, renta, proveniente da, Messina Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, non effettua fermate intermedie. Il treno, intercity notte, 19, 58, di Trenitalia, delle ore, 21, e, 37, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Messina Centrale, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Cefalù, Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando Naso, Patti San Piero Patti, Barcellona, Milazzo. Il treno, intercity notte, 19, 64, di Trenitalia, delle ore, 13, e, 23, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Messina Centrale, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Cefalù, Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando Naso, Gioiosa Marea, Patti San Piero Patti, Barcellona, Milazzo. Il treno, regionale veloce, 37, 72, di Trenitalia, delle ore, 5, e, 35, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Messina Centrale, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Cefalù, Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando Naso, Patti San Piero Patti, Barcellona, Milazzo. Il treno, regionale veloce, 37, 85, di Trenitalia, delle ore, 19, e, 34, proveniente da, Messina Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, non effettua fermate intermedie. Il treno, regionale veloce, 38, 0, 9, di Trenitalia, delle ore, 18, e, 4, proveniente da, Catania Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, non effettua fermate intermedie. Il treno, regionale veloce, 38, 10, di Trenitalia, delle ore, 17, e, 59, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Siracusa, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Caltanissetta, Xirbi, Enna, Catania Centrale, Lentini, Augusta. Il treno, regionale, 38, 82, di Trenitalia, delle ore, 6, e, 22, proveniente da, Agrigento Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Bagheria. Il treno, regionale, 39, 18, di Trenitalia, delle ore, 6, e, 17, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Agrigento Centrale, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Montemaggiore, Roccapalumbalia, Cammarata San Giovanni Gemini, Acquaviva, Campofranco, Aragona Caldare, Agrigento Bassa. Il treno, regionale, 39, 36, di Trenitalia, delle ore, 16, e, 4, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Agrigento Centrale, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Cerda, Montemaggiore, Roccapalumbalia, Cammarata San Giovanni Gemini, Acquaviva, Campofranco, Aragona Caldare, Agrigento Bassa. Il treno, regionale, 79, 68, di Trenitalia, delle ore, 17, e, 52, proveniente da, Agrigento Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Bagheria. Il treno, regionale, 79, 71, di Trenitalia, delle ore, 5, e, 39, proveniente da, Sant'Agata Militello, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Trabia, San Nicola Tonnara, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Palermo Brancaccio. Il treno, regionale, 79, 84, di Trenitalia, delle ore, 21, e, 52, proveniente da, Palermo Centrale, e diretto a, Sant'Agata Militello, e in partenza dal binario, 3, ferma a, Campofelice, Cefalu, Castelbuono, Olina, USA, Santo Stefano di Camastra, Carnia, Acquedolci San Fratello. Il treno, regionale, 79, 89, di Trenitalia, delle ore, 13, e, 30, proveniente da, Sant'Agata Militello, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 2, ferma a, Bagheria. Il treno, regionale, 25, 6, 8, 0, di Trenitalia, delle ore, 5, e, 10, proveniente da, Palermo centrale, e in arrivo al binario, 1. Il treno, regionale, 26, 5, 0, 1, di Trenitalia, delle ore, 5, e, 56, per, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 4, ferma a, Trabia, San Nicola Tonnara, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Palermo Brancaccio. Il treno, regionale, 26, 5, 2, 4, di Trenitalia, delle ore, 17, e, 43, proveniente da, Palermo centrale, e in arrivo al binario, 4. Il treno, regionale, 26, 5, 4, 5, di Trenitalia, delle ore, 22, e, 42, per, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 4, ferma a, Trabia, San Nicola Tonnara, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Palermo Brancaccio. Il treno, intercity, 35, 6, 6, 5, di Trenitalia, delle ore, 16, e, 18, proveniente da, Messina Centrale, e diretto a, Palermo Centrale, e in partenza dal binario, 1, non effettua fermate intermedie.